Salve a tutti gente, bentornati in questo nuovo video. Io sono Emanuele Covello e questo è il canale di Spazio Cinema. Oggi affronteremo una tematica che ho già affrontato qualche giorno fa, solo che in questo video vorrei approfondire questo argomento. Vorrei parlare appunto del gimbal e tra l'altro vorrei anche un po' recensire quello che uso io di gimbal, ossia il Feutech G6 Plus. Ecco, per me questo è un tuttofare, innanzitutto la borsetta è veramente molto elegante. Prima cosa che vi dico, il treppiedi non è incluso nell'acquisto, ecco. Questo era un treppiedi che io avevo già di mio. Devo dire che con il treppiedi il gimbal si comporta molto meglio ed è anche molto più maneggevole, quindi vi consiglio di acquistarne uno, tanto si trova a pochi euro su internet. È un normale stabilizzatore. Qui ci sono tre assi, come ho già detto precedentemente nel video. Ogni asse ha un suo dovere specifico. Ad esempio, questa è l'asse del tilt. Questo deve mantenere la telecamera salda avanti. Questa invece deve mantenerla bilanciata centralmente, né a destra né a sinistra. E poi ci sta il peso madre, se proprio vogliamo definirlo così. Manterrà praticamente la telecamera ferma nel momento in cui noi andremo a filmare un qualcosa con questo stabilizzatore. Per farvi vedere un po' come si calibra lo stabilizzatore, userò questa mirrorless. Questa è un'Alpha 5100 della Sony. Ancora molto valida nel 2021. Poi ne farò una recensione un po' più in là. Sembra già essere abbastanza calibrato, però adesso andiamo a vedere al dettaglio come si calibra questo gimbal nel momento in cui si apre dallo scatolo. Il risultato finale dovrebbe essere un risultato del genere, perché come vedete la telecamera è abbastanza calibrata su tutte e tre le assi. Non è né troppo a destra né troppo a sinistra. È praticamente centrale. Ecco, la prima cosa che dovete fare per calibrare questo gimbal è calibrare questa asse. Naturalmente la telecamera senza il tappino, perché deve essere già operativa così come la andrete a utilizzare. Quindi se io metto la mano qua, ecco, vedete che non è già bilanciato, perché questo qua deve essere calibrato assieme al braccetto di qua. Invece, vedete, non è calibrato. Che cosa vado a fare? Vado a sganciare questo pesetto qua. Per far sì che il braccio sia calibrato, deve coincidere con lo stick. Questo è il motore chiave della stabilizzazione. Ecco, lo stesso giochetto poi lo dovete fare anche con le altre due assi. Quello che vi consiglio, l'asse del tilt, mantenetela praticamente all'estremità del basso. In questo modo la telecamera resterà più stabile. Nel momento in cui già da spento il gimbal sarà già stabile con la telecamera sopra, lo possiamo andare ad accendere. Una cosa molto importante, non accendete mai il gimbal se non c'è nessuna telecamera o comunque nessun tipo di supporto al di sopra di esso, perché altrimenti poi i motori si surriscaldano e cominciano a faticare, cominciano a tremare e potrebbero avere anche dei malfunzionamenti poi a lungo andare. Quindi sempre, accendetelo sempre con una telecamera già al di sopra. Ecco. Per quanto riguarda il nostro gimbal, nel senso che all'interno dell'applicazione noi possiamo andare a settare le impostazioni dei motori per quanto riguarda il peso della telecamera. Quindi se io vado a tarare la potenza dei motori, equivalente al peso che c'è sopra il gimbal, avranno un funzionamento molto più fluido. Esistono anche le modalità di scena del gimbal. C'è la scena normale, la scena media e la scena veloce. Ognuna di queste scene ha una tale funzionalità. La scena normale è se tu vai a fare comunque un utilizzo normale del gimbal, quindi vai a fare una camminata normale, quindi vai a girare con il gimbal. Quella media invece è se comunque tu fai delle riprese a passo veloce. Quella veloce appunto, lo dice la parola stessa, se dovete fare delle riprese ad esempio mentre correte, quella è l'opzione adatta perché questa opzione renderà ancora più fluidi i movimenti dei motori. Quindi in questo modo ci saranno pochi tremoli fastidiosi, ecco. Un'altra chicca all'interno dell'applicazione della FeiyuTech è lo stick digitale in cui noi possiamo andare a comandare appunto i tre motori anche mediante il nostro smartphone. Naturalmente noi abbiamo delle impostazioni base anche all'interno del gimbal stesso che adesso vi andrò ad elencare. Nella modalità HF la telecamera seguirà ogni movimento che farà il tuo braccio. La modalità lock invece manterrà la telecamera sempre fissa su un unico asse, indipendentemente dai movimenti che andrete a fare. Nella modalità TF il motore del tilt resterà sempre immobile. Nota molto importante, questo gimbal non sopporta più di 800 grammi. Quindi le cose sono due. O utilizzate lo smartphone, o utilizzate una mirrorless, una GoPro, insomma telecamere che sono comunque poco pesanti. Oppure potete usare, come nel mio caso, anche una Reflex, una Nikon di 3500, però con un obiettivo da 35 mm. In questo modo il corpo macchina e l'obiettivo fanno sì che il carico non sia troppo pesante e che quindi il G6 Plus faccia ugualmente il suo sporco dovere. Bene ragazzi, adesso non ci resta che farvi vedere qualche ripresa con il gimbal. Queste sono alcune riprese che ho fatto utilizzando la mia ragazza come modella all'interno di questo video. E devo dire che per delle riprese realizzate in spiaggia, quindi con un terreno non uniforme, questo gimbal da meno di 200 euro è stato veramente molto utile. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, che sia stato utile. In caso lasciate un like, iscrivetevi al canale. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!